Parliamo degli effetti pesantissimi dei provvedimenti inerenti al coronavirus, alla chiusura di numerose attività commerciali e sono nella sede provinciale di Confimprese Taranto con il presidente Federico Greco. E allora Greco certamente un virus devastante la cui evoluzione non si riesce addirittura a prevedere purtroppo e delle misure drastiche ma necessarie prese appunto dal governo e fin qui va bene. Però poi ovviamente ci saranno dei contraccolpi economici pesantissimi perché andare da un'azienda, andare da una partita IVA e dire devi stare chiusa per minimo 15 giorni significa veramente togliergli l'ossigeno. Evidentemente occorrono delle compensazioni, occorrono degli aiuti. Conte a parole dice che nessuno perderà il posto di lavoro, nessuno verrà toccato, stanziamo x miliardi di euro, però sta di fatto che i negozi chiusi non mangeranno per ora e insieme a loro i dipendenti. Ma innanzitutto buonasera ai telespettatori, buonasera Luigi. Guarda il punto basilare del problema grosso Covid effettivamente è questo. Sicuramente la partita IVA, la piccola impresa, la micro impresa, sicuramente avrà delle ripercussioni negative per quanto riguarda il proprio bilancio. Noi come Confimprese Italia sicuramente abbiamo presentato delle richieste sia al Presidente del Consiglio Conte sia al Ministro dello Sviluppo Economico Patronelli. Speriamo che siano sicuramente accettate queste richieste, ma diciamo che già da quello che si prospetta io credo che sicuramente ci sarà una coperta ben corta per tutti. Ora le promesse, parole di circostanza per non esacerbare gli animi, per non creare giustamente panico e allarmismo, però poi quando si tratterà di dare il giusto risturo il piatto piangerà. Sì sicuramente perché Conte parlava di un intervento praticamente iniziale solamente per 12 miliardi di euro. Parlavano sicuramente di estendere poi questo intervento a 25 miliardi di euro, però sicuramente non hanno dato una tempistica. Quindi per il momento dovremmo accontentarci delle briciole e attendere poi che il Governo possa aumentare praticamente la dotazione. Il punto è essenzialmente uno, che si continua a parlare sia per quanto riguarda il Ministro dello Sviluppo Economico sia per quanto riguarda il Ministro dell'Economia, si continua a parlare di cassa in deroga e così via anche per le imprese che hanno meno di 5 operai. E' mai il punto basilare il datore di lavoro? Chi sicuramente lo sostiene? Noi come Confimprese abbiamo effettuato una richiesta di una creazione quantomeno di un fondo salva aziende, l'abbiamo chiamata, in maniera tale che comunque tutte le aziende possano attingere liquidità per sostenere praticamente la propria azienda e le spese della propria azienda. Abbiamo chiesto una moratoria sia per quanto riguarda i mutui che per quanto riguarda tutti gli strumenti finanziari che sicuramente le aziende usano, perché abbiamo pensato alla rata del leasing, alla rata del finanziamento, agli affitti, a tutte le scadenze fiscali, alle scadenze di eventuali rateizzazioni richieste. Quindi è tutto sicuramente un mondo un po' complesso che con 12 miliardi sicuramente non credo si riesca a fronteggiare comunque la perdita da parte delle micro imprese e delle partite vive in genere. Se la situazione è così genericamente drammatica, considerando l'intero paese, la situazione diventa ancora più terribile in quel di Taranto, perché già vivevamo una crisi pesantissima. Immaginiamo ora, passo davanti alle gelaterie, ai ristoranti, ai bar e li vedo chiusi. Immagino che tutti questi ragazzi che lavoravano all'interno, che magari lavoravano e venivano pure sottopagati, sfruttati, pagati quattro soldi, ma bene o male un minimo minimo di stipendio lo avevano, ora si ritroveranno per terra perché giustamente le aziende diranno si riapro però sono ancora ammaccato, ho tantissime ferite, dovrò ridurre il personale, poi magari ci sarà il ricorso agli ammortizzatori sociali, a quello che si vuole, ma parleremo di aziende che riprendono comunque malconce. Sì, sicuramente, l'economia tarantina già arrancava prima, figuriamoci in questo momento. La ripartenza sarà ancora più dura, perché alla fine conti andare a raccimolare le perdite avute in questo periodo sicuramente non sarà assolutamente facile. Per quanto riguarda Taranto, noi possiamo mettere in campo ovviamente tutte le nostre conoscenze, le nostre possibilità per aiutare le microimprese affinché praticamente possono avere liquidità, aiutare le microimprese per quanto riguarda eventuali contratti da far sottoscrivere ai propri operari, aiutare le microimprese per quanto riguarda il risparmio di gestione aziendale. Penso ai vari adempimenti dell'81-08, quindi della sicurezza sul lavoro, che da noi possono essere completamente gratuite. Quindi sicuramente in campo c'è tanto. Il punto basilare è far capire al datore di lavoro che comunque innanzitutto non deve chiudere, ma deve continuare a lavorare. E insieme a tante altre microimprese possiamo cercare di riuscire a sbarcare il lunario e comunque a risolverci tutti quanti. Grazie